buon pomeriggio da monica da cartomante europei un bacio a tutti voi siamo qui in diretta live su ttoc per una nuova trasmissione interattiva per vi spiego come funziona così potete interagire con la live o scrivete la domanda sulla live sempre però digitando dal numero da 1 a 9 in modo tale che generò la carta e che voi scegliete al che stiamo qui in diretta aspettando insomma che vi collegate sono felicissima di stare con voi vi ripeto ecco prendo un attimo di occasione il centro cartomante europei è aperto dalle sette di mattina alle due di notte se vi fa piacere insomma chiamate lo 0 7 7 3 49 35 35 e potete anche parlare con noi per fare stese un po' più ampia no più domande che voi ponete alle carte con l'energia la vostra energia che emettete le carte risponderanno alle vostre domande ripeto sempre ogni domanda è sempre comunque un doppio quindi magari è meglio toglierlo siamo qui apposta per togliere anche dubbia perché ci aiuta a raggiungere l'obiettivo quindi chi dona solamente il cuore rosso può soffrire di una stesura interattiva più lunga più approfondita ecco perché non è chiaro alcuna risposta qualche risposta potete consultare il nostro centro chiamandolo 0 7 7 3 49 35 35 il primo consulto di 10 minuti è gratuito quindi pensate tutti intensamente alla domanda commentate con un numero da 1 a 9 e voi e noi vi rispondiamo alla carta che avete commentato con il numero da 1 a 9 girerò la vostra carta quindi per chi ecco come ha detto il regista magari anche un bel cuore a noi piacciono tante cuore a farò una piccola stesa giro più carte e però più risposte allora possiamo partire daniela numero 4 per il gioco 4 daniela nei prossimi mesi sissi numero 7 1 2 3 4 5 6 7 sissi pensa al positivo sasa chiede si farà sentire carta numero 7 1 2 3 4 5 6 7 sasa chiedi aiuto agli altri 1 2 3 4 5 6 7 sasa chiedi aiuto agli altri mesi 6 pronta o è pronto a 1 2 3 4 5 6 7 sasa chiedi aiuto agli altri mesi che ti pensa è una tua preoccupazione ma è inutile 1 2 3 4 5 6 preoccupazioni inutili significa che ti pensa è una tua preoccupazione ma è inutile 2 3 4 5 6 7 8 sasa chiedi aiuto aiuto al sì sì numero 5 per il gioco 5 è un no petronella numero 5 per l'amore 5 trova un compromesso angelo non chiede per un prestito carta numero 8 angelo fidati imma numero 8 per l'amore 1 2 3 4 5 6 7 8 opportunità chiaretta grazie per il regalo carta numero 3 1 2 3 chiaretta è un sì decisivo continua così ripensa ai momenti felici petronella grazie per il regalo chiede marcella mi ama carta numero 5 sì 1 2 3 4 5 si agisce era un regalo regalo tempismo perfetto improbabile improbabile perché se ci credi davvero quindi hai qualche perplessità però se ci credi è un sì grazie lori per il cuore numero 4 per il lavoro 1 2 3 4 nei prossimi mesi attualmente stai in attesa questa è un sì decisivo anche per il lavoro un anno da oggi da oggi è un anno il tempo è sempre relativo valentina numero 9 per un mal per il matrimonio se si riceverà la proposta di matrimonio 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 valentina valentina si sarà chiede giancarlo mi cercherà carta numero 3 1 2 3 comunica in modo chiaro ti cerca ma devi comunicare in modo chiaro io direi per entrambi a daniele numero 3 per un ritorno 1 2 3 c'è un'attesa aspetta ripeto a tutti per chi dona il cuore faremo una stesura più lunga per tutti gli altri regali vi ringraziamo certo ci mancherebbe siamo sempre felici di riceverli però con il cuore rosso quindi se ci aiutate a raggiungere l'obiettivo che vedete qui sopra noi vi facciamo una stesura molto più lunga abbiamo chiara carta numero 1 1 chiara nelle prossime settimane daiana chiede mi scriverà carta numero 3 1 2 3 momento un pochino sbagliato valentina grazie per il cuore chiede ho donato fabrizio mi farà la proposta di matrimonio carta numero 9 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 9 come si chiama? valentina 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 cerca un segno attenzione eh lui è pronto situazione in voi stessi la vostra migliorerà a volte hai dei pensieri un pochino sbagliati eh però ci sono grandi cambiamenti felici pensa ai momenti passati insieme con serenità valentina è un sì decisivo io sono veramente contentissima bene fate anche tappo sullo schermo in modo tale insomma che vediamo che la live vi piace Michi numero 9 chiede se vincerà questa sera carta numero 9 questa sera è un tempo eh però vediamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 però dice tempismo perfetto provaci Michela numero 9 per l'amore 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 abbondanza Mari numero 3 per un ritorno 1 2 3 pensa al positivo Moira numero 7 per l'amore 1 2 3 4 5 6 7 chiedi aiuto agli altri Alessia grazie per il cuore chiede Alessia e Daniele ci sarà una storia carta numero 7 7 1 2 3 5 6 7 guarda stai attraversando magari o hai attraversato un momento un pochino sbagliato però ti devi fidare di lui ce l'hai fatta a raggiungere insomma l'obiettivo è un sì decisivo nelle prossime settimane che lo chiederà o comunque interagisce visto che è già atteso bello unghia che vale chiede Andrea mi ha trasita carta numero 6 mi chiamo Valentina grazie per il regalo 1 2 3 4 5 6 no Valentina grandi cambiamenti felici significa che la verità esce fuori e esce un no non c'è tradimento la situazione migliorerà sei pronta per affrontare questa opportunità di discorso dai retta le tue intuizioni tutto questo è per dirti che non c'è tradimento ma fondamentalmente pensa con la tua di testa devi ragionare te con la tua di testa grazie a L buonasera riuscirò ad andare via dal paese dove risiedo carta numero 8 vediamo 1 2 3 4 5 6 7 8 sì se ci credi davvero se veramente lo vuoi c'è la riuscita ripeto siamo aperti dalle 7 di mattina alle 2 di notte che ecco ritorno da Teresa carta numero 8 1 2 3 4 5 6 7 8 nel prossimo futuro Marietta grazie per il regalo carta numero 6 per l'amore grazie 1 2 3 4 5 6 pensa al positivo medita pensa c'è per trovare la risposta abbondanza sta cercando il perdono da te persone disponibili si intende dire che tramite persone hai delle risposte positive e è un sì Daniela De Fazio chiede migliorerà la mia situazione economica carta numero 4 1 2 3 4 prendi una nuova direzione Anna Maria chiede Raffaello mi pensa carta numero 8 1 2 3 4 5 6 7 8 è un sì decisivo Sara chiede se la contatterà carta numero 3 1 2 3 diretta le tue intuizioni user 0 0 carta numero 3 1 2 3 la situazione migliorerà Antonella chiede per l'amore carta numero 3 1 2 3 cerca un segno Carla chiede per il denaro carta numero 2 1 2 è un sì decisivo Farfalla numero 2 1 2 chiede aiuto ai tuoi angeli rosa numero 3 1 2 3 se ci credi davvero consulente floriterapista chiede troverò un uomo carta numero 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 persone disponibili aiutateci tutti quanti a raggiungere l'obiettivo con un cuore rosso grazie tutti insieme dai Rita numero 4 1 2 3 4 attualmente è un no Mike e si numero 7 1 2 3 4 5 6 7 dipende da te Elisa grazie per il cuore carta numero 5 per l'amore 1 2 3 4 5 Elisa 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 ce l'hai fatta Nelle prossime settimane già stai attendendo aspetta una risposta da te chiedi aiuto ai tuoi angeli Mike e si grazie per il regalo grazie carta numero 7 1 2 3 4 5 6 7 la situazione migliorerà sei pronta hai delle opportunità che stanno viaggiando verso di te diretta alle tue intuizioni tu pensi che sia un momento sbagliato ma non lo è fidati è un sì decisivo veramente bello complimenti Giovina numero 5 per l'amore 1 2 3 4 5 è un sì Gabriella numero 7 per l'amore sì 1 2 3 4 5 6 7 Gabriella tempismo perfetto Jessica per il ritorno carta numero 8 1 2 3 4 5 6 7 8 qualcuno Jessica sta attendendo il perdono da te Stefano sbloccherà Roberta carta numero 7 1 2 3 4 5 6 7 sì però devi trovare un compromesso Greta grazie per il regalo chiede se tornerà carta numero 5 sì 1 2 3 4 5 Greta Greta ce l'hai fatta pensa ai momenti passati belli insieme dipende anche da te comunica in modo chiaro qua stavi un po' in bilico stavi decidendo se prendere una nuova direzione o tenere pugno a questo a questa decisione ce l'hai fatta comunque è un sì Jessica numero 7 sì 1 2 3 4 5 6 7 Jessica Jessica per il momento è un momento un pochino sbagliato Margherita numero 3 1 2 3 Margherita è un sì decisivo Bottega rinascimento numero 3 1 2 3 cerca un segno Maria chiede troverò un compagno carta numero 7 sì 1 2 3 4 5 6 7 sì se ci credi davvero Susi numero 6 per la fortuna 1 2 3 4 5 6 per la fortuna però mi esce storia d'amore quindi anche in amore sei fortunata Lisa numero 5 per l'amore 1 2 3 4 5 abbondanza patti l'una numero 1 medita per trovare la risposta 5 5 5 chiede mi ricontatterà carta numero 6 1 2 3 4 5 6 prendi una nuova direzione Ilaria numero 7 1 2 3 4 5 6 7 chiedi aiuto agli altri Marianna raggio di sole carta numero 3 1 2 3 dai retta le tue intuizioni Daniela numero 9 per l'amore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Daniela è un sì decisivo Ilaria paduano numero 7 1 2 3 4 5 6 7 tempismo perfetto Teresa numero 2 1 2 nei prossimi mesi mason 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 torna da rosa carta numero 8 1 2 3 4 5 6 7 8 medita per trovare la risposta cuore numero 4 1 2 3 4 cuore è un sì benedetto per l'amore benedetto per l'amore carta numero 8 1 2 3 4 5 6 7 8 nelle prossime settimane potete anche scrivere la domanda sempre con un numero da 1 a 9 JP numero 5 1 2 3 4 5 momento un po' sbagliato dovete commentare con un numero da 1 a 9 numeri doppi non vanno bene pensate intensamente a una domanda e commentate con un numero vediamo sulla gravidanza e sulla salute non rispondiamo è contro protocollo è truffa ma rieta grazie carta numero 3 per un tradimento 1 2 3 dipende dalla domanda per un tradimento dipende qua mi dà un sì decisivo quindi se vuoi rifare la domanda perché non è Daniele chiede se si rimetterà con rietta carta numero 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 agisci 0 grazie per il regalo però devi commentare con un numero da 1 a 9 così apriamo una stesa vediamo un attimo Deborah numero 7 1 2 3 4 5 6 7 Deborah storia d'amore ciao Debbie Luigi ritorna a chiedere a fare la carta numero 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lascia andare o meglio per il momento Cristina numero 7 per l'amore 1 2 3 4 5 6 7 ce l'hai fatta Nicoletta chiede Massimo lascerà a lei carta numero 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 è pronta per fare il passo Daniela numero 6 per l'amore 1 2 3 4 5 6 è un sì decisivo Cristina numero 7 per l'amore 1 2 3 4 5 6 7 tempismo perfetto Karima grazie per il cuore carta numero 3 grazie 1 2 3 2 3 1 non è quello che stai pensando te Ornella grazie per il cuore carta numero 5 grazie 1 2 3 4 5 qualcuno sta cercando il perdono da te persone disponibili nel prossimo futuro infatti con bacia da un anno a oggi storia d'amore addolorata numero 4 1 2 3 4 pensa al positivo benedetta numero 7 per l'amore 1 2 1 2 3 4 5 6 7 ripensaci Niles Rosi carta numero 7 1 2 3 4 5 6 7 diretta le tue intuizioni marianna marianna numero 3 per il ritorno si 1 2 3 6 pronta o comunque lui è pronto francesco chiede avrò più soldi carta numero 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 preoccupazioni inutili Irene Lemolo grazie per il cuore carta numero 9 per l'amore grazie 1 2 4 5 6 8 9 agisci tempismo perfetto risoluzione pacifica da oggi a un anno e qua mi dà un po' lo stesso nei prossimi mesi quindi è sempre comunque un arco temporale storia d'amore Sara numero 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Sara lascia andare per il momento Mary numero 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nelle prossime settimane Karima chiede perché è tornato da me carta numero 8 1 2 3 4 5 6 7 8 perché per lui è il momento giusto è un sì decisivo perché c'è sentimento Natalie numero 9 1 2 3 cerca un segno Maddalena numero 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 se ci credi davvero Santina numero 6 1 2 3 4 5 6 nel prossimo futuro Azzurra chiede andrà bene con quel ragazzo carta numero 5 1 2 3 4 5 è un no Enza numero 7 per la casa 1 2 3 4 5 6 7 dipende da te con l'obiettivo come stiamo regista? stiamo mancano 11 cuori mi raccomando Lugrezia chiede si farà sentire carta numero 3 vediamo 1 2 3 c'è una piccola attesa Giovi Giovanna e Mirko carta numero 8 1 2 3 4 5 6 7 8 sei pronta Fernanda numero 5 1 2 3 4 5 continua così Marietta chiede mio marito mi tradisce carta numero 3 1 2 3 chiedi aiuto agli angeli stellina numero 5 1 2 3 4 5 se ci credi davvero Engie numero 3 per l'amore 1 2 3 nei prossimi mesi Valentina grazie per il cuore chiede troverò un lavoro stabile carta numero 5 si Valentina 1 2 3 4 5 lavoro stabile si risoluzione pacifica in te stessa quindi risali con l'umore nel prossimo futuro che poi oggettistica la cosa è il tempo persone disponibili proprio per lavoro però qualcuno sta cercando il perdono da te è possibile il precedente lavoro un lavoro attuale che stai magari cambiando fermata numero 5 1 2 3 4 5 lascia andare per il momento valeria chiede sarò nella lista per la per la carta per la carta spesa carta numero 9 ho capito carta spesa è un incentivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nelle prossime settimane si è qualcosa burocratico 7 7 7 numero 2 1 2 la situazione migliorerà Enza numero 7 1 2 3 4 5 6 7 c'è qualcosa di meglio Nana chiede Alessandro mi sbloccherà dai social carta numero 6 1 2 3 4 5 6 chiedi aiuto ai tuoi angeli Maria Mazzone grazie per i cuori chiede per Maria e Pierfranco carta numero 2 1 2 storia d'amore tempismo tempismo perfetto complimenti bene la pazza numero 7 1 2 3 4 5 6 7 nel prossimo futuro Raffa per la situazione economica carta numero 1 un anno da oggi Pasqualina numero 5 1 2 3 4 5 Pasqualina attualmente è un no Daniele numero 5 1 2 3 4 5 prendi una nuova direzione Marina numero 7 1 2 3 4 5 6 7 chiedi aiuto agli altri nuvola numero 8 1 2 3 4 5 6 7 8 c'è qualcosa di meglio tra Alessandro e Adriana è finita carta numero 3 1 2 3 no continua attualmente così Anna chiede per un ritorno carta numero 4 1 2 3 4 preoccupazioni inutili torna Valeria chiede mi ricontatterà carta numero 3 1 2 3 agisce Katia numero 4 si avvererà il mio desiderio 4 nei prossimi mesi che poi il tempo è sempre relativo Maria numero 5 ve lo ritorno 5 qualcuno sta cercando il perdono da te ritorna ma cerca un perdono Leo numero 6 per un ritorno 1 2 3 4 5 6 è un sì Rosi numero 5 1 2 3 4 5 ripensaci Benedetta numero 6 1 2 3 4 5 6 opportunità 0 chiede sono sono nuova Giulio mi cercherà per parlare carta numero 2 1 2 attualmente è un momento un pochino sbagliato Agostina chiede mi cercherà per chiarire carta numero 7 grazie per il regalo grazie 1 2 3 4 5 6 7 agostina fidati è pronto è pronto è un sì decisivo a volte a volte pensato c'è qualcosa di meglio che c'è qualcosa di meglio ma lui c'è sentimento continua così perché ci sono grandi cambiamenti felici cerca un segno è veramente bella Agostina Angi numero 7 per l'amore 1 2 3 4 5 6 7 agisci Ida numero 1 per l'amore se ci credi davvero Maria numero 5 per il ritorno 1 2 3 4 5 nel prossimo futuro Jody numero 7 per il lavoro 1 2 3 4 5 6 7 Jody pensa al positivo Desi numero 3 3 trova un compromesso non manca non manca moltissimo la fine della diretta quindi se ci donate un cuore per farci arrivare all'obiettivo vi gireremo anche più carte Romina 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 Ranieri carta numero 7 1 2 3 4 5 6 7 nelle prossime settimane Vanessa Vanessa numero 2 1 2 la situazione migliorerà Aurelia numero 7 per il lavoro si 1 2 3 4 5 6 7 c'è qualcosa di meglio Tina numero 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tempismo perfetto grazie per il regalo Simonetta chiede ci sarà una chiamata lavorativa in ospedale carta numero 7 5 6 7 fondamentalmente un sì nei prossimi mesi il tempo comunque è sempre relativo anche questa nel prossimo futuro persone disponibili verso di te e pensi che sia improbabile la cosa invece se ci credi davvero interagisci ora è un sì sto vedendo altri commenti con numeri doppi il commento deve essere un numero da 1 a 9 1 a 9 Romina numero 9 sì 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Romina è un sì Anna Lara numero 7 1 2 3 4 5 6 7 c'è un momento di attesa Gabriella dice Filippo si farà avanti carta numero 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 continua così che si fa avanti non è che lui continua ad essere assente no se te devi continuare ad agire come stai agendo raffa capo raffa capo chiede ci sarà una relazione con alessandra raffaele carta numero 7 grazie per il regalo sì grazie raffaele 1 2 3 4 5 6 7 raffaele ascolta tu pensi un po' al negativo perché magari è un momento a che pensi che volevi cambiare o comunque cambiare la situazione ma è un sì decisivo fidati perché è una persona molto molto onesta è pronta per tornare chiedi aiuto ai tuoi angeli informati meglio vuol dire che comunque lei ti informerà meglio per questo stand by però anche qua mi dà un sì michela grazie per il cuore carta numero 5 chiede mi riuscirò a prendere la pensione di invalidità carta numero 5 5 1 2 3 4 5 nel prossimo futuro è un sì Anna numero 7 1 2 3 4 5 6 7 metta per trovare la risposta Anto chiede ci sarà la chiamata lavorativa a scuola carta numero 4 1 2 3 4 Enzi assunta numero 6 per l'amore 3 4 5 6 ce l'hai fatta Maria Gian Cristofalo chiede ci sarà un ritorno per un nuovo amore carta numero 3 1 2 3 chiedi aiuto agli altri Claudia chiede Mirko mi sbloccherà carta numero 7 1 2 3 4 5 6 7 continua così Ele chiede di un ritorno di Kevin carta numero 5 1 2 3 4 5 informati meglio Maria Mazzone grazie per il cuore carta numero 5 per il lavoro grazie 1 2 3 4 5 per il lavoro c'è qualcosa di meglio però tempismo perfetto ci tiene a questo lavoro preoccupazioni inutili ed è un sì decisivo bene 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 Anri chiede se Fabio è interessato carta numero 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 chiedi aiuto ai tuoi angeli nuova direzione rosi numero 8 1 2 3 4 5 6 7 8 qualcuno sta cercando il perdono da te Emanuela numero 7 per l'amore 1 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 è un sì decisivo Cristiano numero 6 1 2 3 4 5 6 Cristiano continua così Gabriele chiede vorrei sapere se trovo l'amore carta numero 5 1 2 3 4 5 Gabriele hai tante opportunità e Dennis chiede esploderò nel calcio carta numero 3 1 2 3 probabilmente hai qualche provino nelle prossime settimane Ianna ama Elena carta numero 5 1 2 3 4 5 comunica in modo chiaro sì però dovete avere più comunicazioni con chiarezza ovviamente Pina chiede andrò a vivere vicino ai miei genitori carta numero 8 sì Pina 1 2 3 4 5 6 7 8 abbondanza sì bon jovi chiede avrò i soldi che aspetto carta numero 5 1 2 3 4 5 nei prossimi mesi ripeto un attimo prendo occasione di per chiamare cartomanti europei e avere consulti con noi in privato lo 0 7 7 3 49 35 35 i nostri centrinisti sono lì gentilissimi scusate è bello della diretta e attendono le vostre chiamate agostina grazie per il regalo chiede dabbo come mai a volte è sfuggente con me carta numero 7 1 2 3 4 5 6 7 perché a volte ha un po' la testa confusa ma non verso di te anche perché mi esce il tempismo perfetto quando meno te l'aspetti lui si apre mary chiede mio cognato riuscirà a ricomprare casa di nostra figlia carta numero 8 1 2 3 4 5 6 7 8 chiedi aiuto ai tuoi angeli dennis chiede avrò amore in futuro carta numero 6 1 2 3 4 5 6 opportunità cinzia ritornerà con mio marito carta numero 7 1 2 3 4 5 6 7 dipende anche da te Gabriele chiede troverò il lavoro carta numero 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sì abbondanza benedetto grazie per il regalo chiede ci sarà una storia d'amore con Serena carta numero 7 1 2 3 4 5 6 7 lei sta cercando di farsi perdonare in qualcosa magari una sua alta venanza valeria delle prossime settimane anche qua nel prossimo futuro da un anno a oggi risoluzione pacifica Samira numero 7 1 2 3 4 5 6 7 c'è qualcosa di meglio valeria numero 7 e chiede se riprenderà la storia con lui continua così a tutti quelli che stanno commentando ora dovete commentare con un numero da 1 a 9 non rispondiamo a domande sulla gravidanza e neanche sulla salute Stefania chiede mi contatterà Massimiliano carta numero 6 1 2 3 4 5 6 la situazione migliorerà ok Meri dice che si era sbagliata quindi chiede avevo sbagliato a scrivere 1 2 3 4 5 6 7 8 se era mio cognato riuscirà a comprare la casa loro carta numero 8 8 9 2 3 4 5 6 7 8 prendi una nuova direzione Anna Marruccella carta numero 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 persone disponibili mancano solo 4 cuori dai aiutateci a raggiungere l'obiettivo grazie chiede se cambierà città carta numero 6 1 2 3 4 5 6 grazie improbabile deve ancora decidere bene si chiede mi miglioreranno le cose sul lato sentimentale carta numero 8 1 2 3 4 5 6 7 8 informati meglio Tania chiede con Vincenzo saremo una coppia carta numero 7 1 2 3 4 5 6 7 cerca un segno Silvia chiede troverò il lavoro carta numero 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ripensaci Giovanni avrò una ripresa economica però Giovanni devi commentare con un numero da 1 a 9 Salvatore numero 7 1 2 3 4 5 6 7 pensa al positivo Angelina dice mi saluti Monica mi fai salutare da Monica Angelina non so se lo conosci un bacio Angelina Valeria chiede di un ritorno carta numero 9 si 1 2 3 4 5 6 7 8 9 è un no rosa numero 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 è un si lei mi ama ancora carta numero 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 momento un pochino sbagliato Daniela numero 7 1 2 3 4 5 6 7 ce l'hai fatta Daniela Ivan ritorna con Siria carta numero 8 1 2 3 4 5 6 7 8 pensa al positivo Assunta chiede Giovanni risolverà la nostra relazione carta numero 8 1 2 3 4 5 6 7 8 nel prossimo futuro ragazzi vi ricordo che mancano 4 cuori aiutateci a raggiungere l'obiettivo e per chi dona al cuore ovviamente ci sarà una stesura una piccola stesa Giorgia chiede è andato bene il colloquio carta numero 8 8 vediamo 1 2 3 4 5 6 7 8 preoccupazioni inutili stai più tranquilla Maria Pluvirenti carta numero 3 1 2 3 informati meglio Salvatore numero 6 1 2 3 4 5 6 grandi cambiamenti felici Giovanni lascerà Giovanna carta numero 5 1 2 3 4 5 la situazione migliorerà Dabbo è innamorato di Agostina carta numero 5 1 2 3 4 5 Agostina ripensaci a livello buono però hai pensieri un po' sei dubbiosa ma non si però Maria Teresa grazie per il regalo chiede mi cercherà carta numero 6 grazie 1 2 3 4 5 6 perdonatemi dipende da te ovvero dipende anche da te per comunicazioni in modo più chiaro hai provato anche a pensare a prendere una nuova direzione però trova un compromesso perché è un sì torna checco numero 7 1 2 3 4 5 6 7 nei prossimi mesi cuore di magia chiede Antonio mi ama carta numero 5 1 2 3 4 5 improbabile ragazzi mancano solo 3 cuori Simo chiede Elisa innamorata carta numero 4 1 2 3 4 tempismo perfetto Rosanna chiede avrò i soldi dell'assicurazione entro ottobre carta numero 9 Giulia certo che puoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 continua così Vanessa chiede Vincenzo tornerà a cercarmi carta numero 7 sì 1 2 3 4 5 6 7 chiede aiuto agli altri Saber mi ama carta numero 5 1 2 3 4 5 è un bel sì ragazzi mancano 3 cuori rossi per raggiungere l'obiettivo aiutateci raggiungiamolo dai tutti insieme Giulia Giulia chiede guarirò da questo problema no non possiamo rispondere no è assunta miglioramento economico carta numero 7 1 2 3 4 5 6 7 grazie a te cara miglioramento economico attualmente sei un po' stabile pensate a una domanda e commentate con un numero da 1 a 9 se donate un cuore rosso ovviamente vi faremo una stesura più ampia ricevo notizie per il lavoro carta numero 5 per Maria Antonietta 1 2 3 4 5 sì nei prossimi mesi ma il tempo è sempre comunque relativo Giovanna chiede se Agnello la pensa carta numero 8 1 2 3 4 5 6 7 8 storia d'amore bello user carta numero 6 1 2 3 4 5 6 è un sì decisivo Agostina numero 3 1 2 3 chiedi aiuto ai tuoi angeli Don Rosa chiede come andrà il lavoro carta numero 7 1 2 3 4 5 6 7 la situazione migliorerà Mary chiede solo nei pensieri di Chris carta numero 3 1 2 3 c'è una piccola attesa ma è un sì Giulia chiede Michele mi ama davvero carta numero 5 1 2 3 4 5 trova un compromesso RGT devi commentare un numero da 1 a 9 Daniele ritorna chiedere becca carta numero 6 1 2 3 4 5 6 metti da per trovare la risposta allora vediamo mancano 3 cuori per l'obiettivo dai mettiamocela tutta per noi ma anche per voi Assunta chiede Giovanni mi ama veramente carta numero 9 vediamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 improbabile però hai te eh un po' di dubbi vediamo aspettiamo magari se qualcuno ci vuole donare un bel cuore dai i cuori a noi piacciono anche per per l'obiettivo arriviamo tutti all'obiettivo non le rose i cuori ragazzi per favore cioè allora la regina ecco qui abbiamo subito un altro cuore per ns grazie mille mancano solo due cuori grazie la regina di tiktok chiede c'è un uomo da lontano che mi ama carta numero 6 6 1 2 3 4 5 6 come si chiama Teresa Teresa ok preoccupazioni inutili tempismo perfetto agisci se ci credi davvero storia d'amore ns grazie per il cuore devi commentare con un numero da 1 a 9 e ti rispondiamo subito la domanda grazie mille grazie patrizia anche te grazie per il cuore devi commentare con un numero da 1 a 9 manca solo un cuore dai dai uno solo ns grazie ancora per il cuore chiedo entro come guardia finalmente grazie carta numero 9 9 1 2 3 6 7 9 allora informati meglio per il tuo obiettivo fidati e grandi cambiamenti felici continua così a volte hai incontrato dei momenti un pochino sbagliati cerca un segno sei pronto chiedi aiuto ai tuoi angeli è un sì decisivo complimenti io ti mando veramente un bacione per il tuo obiettivo patrizia stiamo aspettando anche il tuo di commento commenta con un numero da 1 a 9 aurelia numero 7 se trovo lavoro a settembre 7 ce l'hai fatta chiediamo arriviamo all'ultimo cuore manca solo un solo cuore uno solo e arriviamo all'obiettivo non chiudiamo la diretta fino a che non raggiungiamo l'obiettivo stiamo qui il regista siamo qui per voi dai raggiungiamo tutti l'obiettivo fe chiede Ivan mi ama veramente carta numero 7 vediamo 1 2 3 4 5 6 7 ti ama ma dipende da te il cuore rosso dovete donare non altri altri regali solo il cuore rosso patrizia si stavamo aspettando il tuo commento commenta da 1 a 9 gentilmente ti rispondiamo al cuore di prima io giro la tua carta patrizia Luca chiede se vede se vedi il ritorno della moglie carta numero 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 si nel prossimo futuro ovviamente il tempo è sempre relativo però è un si allora patrizia che ha donato prima vorrei a settembre vorrei dare l'esame di teoria lo posso grazie carta numero 1 quindi vedi più o meno come vedi la situazione ecco si manca un cuore ve lo ricordo ancora a tutti perché a me piace il 7 e quindi ho messo giù 7 carte tempismo perfetto il tuo obiettivo è fondamentalmente quello che desideri no con il cuore è un si decisivo preoccupazioni inutili te la vedi come una cosa improbabile invece è molto molto positivo si raggiunge raggiunge è bello chi ci fa raggiungere l'obiettivo uno solo dai un solo cuore rosso grazie a te patrizia grazie chiede daniele mi cercherà carta numero 3 abbiamo raggiunto l'obiettivo 3 c'è qualcosa di meglio grazie per averci aiutato per l'obiettivo grazie a noi e grazie anche a voi un bacione veramente forte ns ok ns grazie per l'ultimo cuore e devi commentarci anche con un numero da 1 a 9 oltre il la domanda ecco grazie Simo anche per il cuore grazie ok ns riprendo il porto d'armi sportivo carta numero 7 donazione il cuore giusto ok 1 2 grazie Simo ha detto che ha donato il cuore perché sei bravissimo grazie gentilissimo 1 2 3 4 5 6 7 pensi che ci sia qualcosa di meglio ma agisci te eh perché ce la fai preoccupazioni inutili perché è un sì decisivo per i tuoi obiettivi che tu lo vedi improbabile invece no da un anno a oggi tutto questo se ci credi davvero facciamo l'ultima angipaglia carta numero 3 per il ritorno 1 2 3 3 tempissimo perfetto io ringrazio tutti sempre con il cuore un bacio da Monica e da cartomanti europei un giù tu di nore un bacio di più che ti fa un bacio di più che ti fa tu noci adesso un bacio di più che ti fa un bacio di più che ti fa Grazie.